Riscriviamo il nostro futuro, un progetto messo in campo dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Città di Castello con il sostegno della Fondazione Perugia per le persone fragili di Umbertide. In questi giorni sono stati resi noti i risultati della campagna. Sono stati organizzati 89 incontri, in alcuni casi anche presso il domicilio degli assistiti, condotti dalla consulente in estetica sociale Michela Traversini e 50 dalla psico-oncologa Anastasia Dionisi. Sono state organizzate due giornate della salute rivolte principalmente a persone anziane e sono stati sottoposti a screening gratuiti 97 persone con misura della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi e della pressione arteriosa. Sono state realizzate 21 attività di orientamento ai servizi, 83 servizi di assistenza domiciliare rivolti esclusivamente a persone anziane o non autosufficienti. Sono state eseguite 24 consegne spesa e 11 per i farmaci. I servizi hanno riguardato principalmente persone sole o nuclei familiari in isolamento da Covid. Sono stati realizzati altresì 112 servizi di sostegno alimentare che hanno permesso di assistere per 15 mesi 47 nuclei familiari e al fine di migliorare il benessere di alcuni nuclei familiari delle persone assistite e soprattutto la loro dignità sono state acquistate 50 card prepagate anonime distribuite agli utenti così da permettere loro di poter acquistare quei generi di prodotti che sono in grado di distribuire. Sono state anche realizzate 52 trasporti sociali o donco-taxi. Inoltre, in collaborazione con il personale medico infermieristico dell'esercito italiano, sono stati svolti ben 13 servizi di supporto per la somministrazione del vaccino direttamente a domicilio a 31 soggetti con gravi fragilità. All'incontro hanno preso parte il sindaco di Umberti, del Luca Carizia, l'assessore alle politiche sociali, Sara Pierucci, il presidente del comitato della Croce Rossa italiana di Città di Castello, Francesco Serafini e i consiglieri d'amministrazione della Fondazione Perugia, Camillo Bacchi. Il progetto, del valore complessivo di circa 10.000 euro, ha avuto come campo d'azione i comuni di Umbertide, Montone, Pietralunga e Licciano Niccone.